Ciao, vediamo qual è il messaggio che ti deve arrivare. Allora, sei una persona che ne ha passate tante, la regina di spade è l'energia di una persona che ha il controllo in senso positivo, in senso consapevole di tutto ciò che ha passato e sa gestire la propria vita. Queste due aquile che volano davanti alla luna stanno a significare che tu sei diventata un'aquila, tu puoi volare alto e hai il controllo, puoi avere il controllo di tutto, te lo sei conquistato, te lo sei veramente conquistato. Il mago è un momento importante per te, è un momento in cui finalmente hai non solo il controllo della tua vita ma puoi anche iniziare tutto quello che vuoi. Hai tutto il potere personale per iniziare quello che vuoi. Sei veramente diventato un po' un alchimista della tua vita. e con questo 5 di bastoni mi viene da dire che non c'è nessuno e niente che può fermare ciò che vuoi. a costo di combattere, di lottare, ormai sai, ormai hai le armi per combattere, per lottare in ciò che credi. e nessuno ti può più fermare, nessuno ti può più fermare, nessuno ti può più fermare. 7 di spade, nessuno ti può più fermare, nemmeno le persone che potrebbero magari anche distrarti, potrebbero fuorviarti, nessuno ci riesce, nessuno ci riesce più. Ti stai allontanando o ti sei allontanato da tutto ciò che non fa più parte di te e che può semplicemente essere di distrazione per tutto quello che desideri. E poi hai un 9 di coppe. Tu stai puntando e stai raggiungendo l'abbondanza. Te la meriti tutta, questa abbondanza, è un'abbondanza in tutti i sensi. Ora è il momento di ricevere abbondanza, ora è il momento di attirare abbondanza. Sei nelle condizioni di farlo. Per te c'è tanta abbondanza. In tutti i sensi. Ciao.